Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati con la carriera allenatore con l'Inter. Finalmente, oggi ci aspettano due match. Sì ragazzi, due match. Oggi ho deciso di fare due match e non tre, come vi avevo detto la scorsa volta. Farò la partita contro Torino e Frosinone, così che nel prossimo video ci sarà Napoli e Genoa, che sono un paio di scontri veramente molto tosti. Oggi invece cerchiamo di portare a casa punti con il Torino e il Frosinone. Questa innanzitutto è la classifica ragazzi, classifica ancora abbastanza corta, anche se la Juventus sta iniziando ad allungare abbastanza e quindi dobbiamo cercare di appunto portare a casa veramente 6 punti. Dobbiamo cercare in queste due partite di fare 6 punti, anche perché il Frosinone è a penultimo e il Torino è a quartultimo. Quindi non dico che saranno partite semplici, ma dobbiamo assolutamente portarceli a casa. Questi 6 punti. Allora ragazzi, questa qui è la formazione. Kei, Nicardi, Jovetic, Bolasia a sinistra perché si è infortunato, scusate, Perisic, Biaviani a destra, Contogui, Atayes, Musacchio, Miranda, Florenzi e Andanovic. Andiamo a giocarci il nostro match, signori. Vabbè, ed eccoci qua. Torino-Inter. Sta piovendo, come al solito. Dove ricordarmi di cambiare veramente il tempo perché non si può vedere ogni volta la pioggia in queste cazzo di partite. Questa è la formazione del Torino. Maximovic, Glicca, Avelar, Moretti, Peres, Baselli, Agazzi, Vives, Slimani e Maxi Lopez. Non so che formazione sia, sinceramente. Comunque ragazzi, concentrati, decisi, perché veramente è una partita questa che bisogna portare a casa. Miranda, fa ripartire Musacchio, Jovetic, Kane e poi Bolasi. Si fa vedere come sempre Tejes, che poi rientra. La gioca per Harry Kane, che la rigioca per Tejes. Adesso, Tejes, davanti a Padelli, il tiro di Tejes! Poi c'è Jovetic! Stefan Jovetic, è sempre lui, signori, dopo quattro minuti. L'Inter è già in vantaggio, signori. Mamma mia, grande gol. Grande azione dell'Inter, signori. Come vedete, Kane si è lento, non riesce a segnare, però riesce comunque a dare buona costruzione al gioco dell'Inter. Qui grande parata di Padelli su Tejes, ma poi non può nulla il portiere italiano sul tapin vincente di Jovetic da pochi metri. Quindi già 1-0 per l'Inter dopo 5 minuti. Glick perde un bruttissimo pallone, lo regala con Dogbia. Si fa vedere Bolasi. Per Icardi. Icardi, prova il tiro! Fermato da Moretti. Poi Perez. In seguito da Tejes, e guardate Tejes, gli ruba il pallone. Jovetic fa partire Harry Kane, attenzione! Può andare Harry Kane, può andare Harry Kane! Il tiro di Kane! Centrale. Parfacile Padelli. Attenzione perché Slimani fa un grande lavoro. Maxi Lopez. C'è Florenzi che prova a chiudere. Poi Maxi Lopez la mette in mezzo malissimo. Attenzione a Bia Biani che forse fa il pasticcio. Poi Miranda indietro per Andanovic. Che fa ripartire. Allarga benissimo per Tejes. Ancora Kane con Tejes. Chiuso da Bruno Perez. E c'è il fallo di Bruno Perez. Sinceramente non me l'aspettavo. Credo che questo sia un rigore abbastanza regalato. Qua Tejes va. Spinto da Perez. E direi che il rigore non ci sta. Il tiro di Jovetic. E sono due signori. Al venticinquesimo del primo tempo. Doppietta di Stefan Jovetic. Che si sta dimostrando ragazzi. Veramente indispensabile. Per questa squadra. Calcio di rigore. Non dico perfetto. Ma abbastanza angolato. Dove Padelli. Che si butta a raso terra. Non può arrivare. Stefano Jovetic. Firma la sua doppietta. Personale. E la partita si mette subito bene per l'Inter. Calcio di produzione per il Torino. Sul pallone Maxi Lopez. La ricorsa di Maxi Lopez. La mette in mezzo. Veramente molto aggolata. Attenzione Miranda. Poi la lascia lì. Slimanissi mangia un gol. Incredibile. Errore qui di Miranda. Che nel respingere il pallone. Purtroppo la respinge male. Appunto. No. Calcio di rigore per il Torino. Ragazzi. Così a caso. Io non ho spinto niente. Sgambettato. Vive. Se non sbaglio. Da Miranda. Ma io non ho spinto assolutamente nulla. Andanovic. Maxi Lopez. Tira centrale. E riapre tutto. Io signori. Capisco che anche prima mi è stato dato un rigore così. Però. Io stavolta veramente non ho controllato. Non controllavo Miranda. Peccato. E finisce qui il primo tempo ragazzi. Con l'Inter che poteva ripartire. Ma meglio così. Andiamo negli spogliatoi. Se ne va bene Jovetic. Attenzione perché c'è largo Biabiani. Si fa vedere Biabiani. Il tiro di Biabiani. Padelli con l'ascella. Ma va a cacare va. Pazzesco. Pazzesco la parada che ha fatto Padelli. Incredibile. Se può andare Biabiani. La gioca Palacio. Benissimo per Bolasi. Che la mette in mezzo. Dove c'è Biabiani? Ma chiude benissimo Maximovic. Bella azione dell'Inter qua. Ancora Miranda. Ancora Miranda. Attenzione perché la palla resta lì. Benassi. Il tiro fuori di pochissimo. Ma quanto ha rischiato l'Inter in questa azione? Quanto? Al novantaduesimo praticamente. L'Inter rischia il pareggio. E finisce qui. E finisce qui signori. Tre punti importantissimi. Una partita soffertissima. Mamma mia. Un Torino veramente veramente che ha lottato fino alla fine. Ma alla fine siamo riusciti a portare a casa tre punti. Andiamo a vedere subito, 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 gli sviluppi della classifica. Andanovic para. Poi rilancia lunghissimo dove c'è Palacio. Che la stoppa bene di petto e fa partire Jovetic. Poi Cardi. C'è dall'altra parte da solo Bia Biani. Attenzione. Bia Biani contro Spadelli. Ah la stoppa male Bia Biani. Poi tira il volo. Ma che cosa ha combinato Bia Biani signori? La stoppa malissimo. Ah Padelli fa il miracolo ragazzi. Prima scusate ragazzi facciamo un attimo un po' di allenamento. Io allenerei Kane. Nella creazione di occasioni allenerei Icardi. Colpo di test e tiro al volo. Anche Iaic in realtà non è male. Non è male. Comunque io allenerei con Dugbia. Passando ai difensori centrali proverei ad allenare Murillo. Che purtroppo non gioca spesso. E poi passando ai terzini andrei su Luke Shaw. Perché Tejas comunque gioca sempre titolare. Allenamenti che non sono andati benissimo purtroppo. Ok ragazzi. Perisic è tornato dall'infortunio. E questa è una buonissima notizia. E questa è la classifica ragazzi. La Juventus non si ferma. La Juventus non si ferma. Ma comunque le prime posizioni sono comunque veramente molto corte. Quindi andiamoci a giocare questo match contro il Frosinone. E andiamo a farci la formazione. Ok signori andiamo a giocarci questo match con il Frosinone. Con questa formazione Iaic, Kenjovic, Perisic, Mares, Melo, Shaw, Murillo, Miranda, Santone, Andanovic. Assolutamente tre punti che devono entrare nelle nostre tasche. Perché sei punti in due partite è assolutamente buonissimo. Tutto Iaic fa un gol della madonna. E si comincia. Primo pallone giocato dall'Inter. Con Mares subito che spinge. Iaic. Oddio. Bella palla per Perisic. San Marco si trovava lì e manco si è accorto che il pallone l'ha colpito. Kane. Che imbucata per Iaic. Davanti alle ali. Adam Iaic. E questa volta lo dico. Siamo stati fortunatissimi sul passaggio filtrante di Harry Kane. Ma 1-0 per l'Inter. Al quindicesimo del primo tempo. Adem Iaic sblocca il match. Qua Jovetic. Bella palla di Kane. Poi Blanchard e non so chi altri fanno un pasticcio. E Iaic in buca le ali sul primo palo. 1-0 Inter. Perisic allunga il pallone. San Marco interviene. Poi Perisic ritorna. E riesce a far ripartire finalmente l'azione d'attacco dell'Inter. Santon. Jovetic. Ancora Perisic che può andare. Diakite lo chiude. Attenzione perché c'è un buco incredibile. Il tiro di Perisic. Signori. 2-0. Al ventiduesimo. Ivan Perisic. Scusate mi sono bloccato. Non sapevo chi aveva segnato. Non mi ricordo più chi aveva segnato. Comunque al ventiduesimo. L'Inter raddoppia con Ivan Perisic. E un'altra grandissima azione. Di tutta la squadra. Qua Jovetic. Bene per Perisic. Poi Diakite interviene se non sbaglio. Ma Perisic poi qui. Con un grande agonale di destro. Buca le ali. E firma il suo secondo gol in Serie A. Perisic. Iaic e Perisic. Signori. 2-0 Inter. Andare Carlini. C'è lungo il pallone. La mette in mezzo dove c'è lungo. Ma esce benissimo Andanovic. Grande chiusura qui di Miranda ragazzi. Bella palla di Murillo per Sant'On. E' partito deciso l'Inter. Jovetic. Prairie Kane. Può andare Kane. Chiuso da San Marco ragazzi. Io con Kane non so veramente cosa fare. Mi sta deludendo veramente tantissimo. Finisce qui il primo tempo ragazzi. 2-0 per l'Inter. Iaic. Bella palla. Di ritorno per Jovetic. Che può andare. La mette in mezzo Jovetic. Ma è stata deviata. Poi Blanchard fa una roba incredibile. Mostruosa. Luke Shaw. Attenzione al Shaw. Il tiro da fuori di Luke Shaw. Le ali. Ha fatto benissimo provare il ragazzo. Che ha tirato una bella minella col mancino. Anche il show quando ho chiamato in causa si sta comportando veramente bene. Come intanto riparte il Frosinone con Carlini. Velocissimo. Poi la mette in mezzo ma Miranda chiude divinamente. Faccio un paio di cambi. Do un po' di riposo a Miranda. Faccio entrare Musacchio. Qui faccio uscire Kane che ragazzi come ho detto prima purtroppo mi sta deludendo tantissimo. E ho fatto entrare Palacio. Jovetic intanto. Subito primo pallone giocato per Palacio. Pallone per Iaic. Poi attenzione Mares che può andare. Numero di Mares. Ma Ciofani. Ciofani come cazzo si chiama. Chiude benissimo. Peccato perché era una grandissima ripartenza dell'Inter. Poi Shaw. Per Perisic. Ce ne può andare con un numero. Attenzione. Ivan Perisic. La palla resta lì. Sempre molto fortunata l'Inter. Corri in palli per il momento. Ma Iaic non riesce a sfruttare questa occasione. Poi Shaw. Gioco una gran palla per Jovetic. Ancora lì che lotta il Montenegrino. Ma Rosi mette un po' di ordine. Palacio. Aspetta una giocata. Che non c'è. E c'è adesso per Iaic. Per Perisic scusate. Perisic con un guisto c'è arrivato. Ma Leali ha fatto una gran cosa. La mette in mezzo Mares. Sul calcio d'angolo. Esce di nuovo benissimo Leali. Vabbè. Con Jovetic. Attenzione. Jovetic davanti alle ali. Il tiro di Jovetic che non impensierisce minimamente il giovane portiere che addirittura blocca il tiro. Poi Longo. Non si è visto praticamente mai dalla porta di Andanovic. Attenzione a Cipsa. Verde può andare. Ma c'è Murillo che chiude facilmente. E ennesimo calcio d'angolo per l'Inter. Che batterà sempre Mares. Sulla testa di Jovetic. Ciofani. La toglie praticamente dalla linea di porta. Poi Santon. Probabilmente l'ultima azione del match. E altri tre punti che si avvicinano. può andare a Juxo. Attenzione. Tiene ancora il pallone il giovane. Iaice. Per Jovetic. Crivello chiude. Ma finisce qui. 2-0 per l'Inter. Tre punti meritatissimi. Niente da fare per il Frosinone. Che oggi si è trovato davanti una grandissima Inter. Guardate le statistiche ragazzi. Dieci tiri. Sette in porta. Il Frosinone è 1-1. Allora ragazzi. Questa è la classifica aggiornata. La Juve fortunatamente ha pareggiata una. Quindi abbiamo recuperato qualche punto. Ma per il momento siamo terzi. Non male. Sette vittorie. Quattro pareggi. E due sconfitte. Con 20 gol fatti. 9 subiti. Siamo la seconda miglior difesa. E 25 punti. La Lazio che è seconda ne ha 27. La Juventus che è prima ne ha 32. Dobbiamo sperare assolutamente tutti i costi che la Juventus. Inizia a perdere qualche partita. Signore. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio contro il Napoli. Partita importantissima. Quindi mi raccomando. Non perdetevela. Vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Come sempre. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a mezzo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.